Siamo qui alla Proloco, nell'ufficio, e stiamo inaugurando la nuova macchina fotografica. In questo istante il grande presidente è intento a scrivere una lettera. Documentiamo il presidente al lavoro. Tutto preso col suo lavoro. E come in Italia, uno lavora, quattro si fa mantenere. No, 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 adesso ci manca solo... Devono imparare, devono imparare a farci mantenere.